Ho un sogno in testa che voglio realizzare, una fiamma dentro che mi spinge a provarci. Anche se do sempre il 120%, anche se non spreco un solo secondo della mia giornata, anche se ci metto anima e cuore. A volte le cose non vanno, a volte tutti i miei sforzi non hanno il risultato desiderato, a volte credo che dovrei essere molto più avanti di dove sono. Ma per quanto le cose possano andare male, per quanto possa sembrare lontano quel traguardo, non penso mai ad arrendermi. Sto facendo quello che mi piace, sto provando a costruire qualcosa di speciale, sto lavorando per qualcosa di unico. E l'idea che un giorno tutto questo possa diventare realtà, che tutti questi piccoli sforzi possano risultare in qualcosa di grande, che tutto questo lavoro oggi possa generare un cambiamento un domani, solamente questa speranza è ossigeno per me. E preferisco provarci per sempre, che lasciar perdere con il dubbio di aver mollato magari un giorno prima della svolta. Per questo non ci sarà mai un arrivo da aspettare, ma solamente un viaggio da godersi. Per questo non ci sarà mai un'altra cosa, non ci sarà mai un'altra cosa, non ci sarà mai un'altra cosa,